licia colò e nicola pietrangeli torneranno insieme se l'ex tennista non nasconde il desiderio che questo possa accadere dopo una storia d'amore durata sette anni ora è la conduttrice a fare chiarezza la speranza è l'ultima a morire ha raccontato ospite del programma radiofonico un giorno da pecora con giada miceli nel quale ha parlato anche di una certa gelosia nei confronti di giulia roberts nel corso dell'intervista colò ha ricordato un episodio accaduto all'epoca della sua relazione con pietrangeli una volta io e nicola eravamo al cinema pretty woman e lui ad un certo punto inizia a fare l'apoteosi di giulia roberts la conduttrice ha interpretato le sue parole come una mancanza di rispetto per me però niente è impossibile nella vita e quindi questa cosa mi ha dato fastidio è una questione di rispetto e poi poteva davvero incontrarla giulia roberts lui viveva a monte carlo e lì giravano tantissimi attori di successo quindi poteva davvero accadere licia colò e nicola pietrangeli sono stati fidanzati per circa sette anni non ho mai capito perché sia finita di recente ci siamo riavvicinati adesso è single aveva raccontato l'ex tennista in un'intervista al settimanale oggi a fare chiarezza sul loro rapporto è ora la conduttrice che non esclude l'ipotesi di averlo di nuovo nella sua vita ogni tanto ci si vede e la speranza è l'ultima a morire diciamo che ora siamo grandi amici e questo è molto importante è un'intervista al settimanale oggi è un'intervista al settimanale oggi è un'intervista al settimanale è un'intervista al settimanale oggi è un'intervista al settimanale oggi è un'intervista al settimanale